Eccomi, 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 buonasera amici e amiche, rosso, neri, ragazzuoli, ragazzuole belle, buona serata di questo lunedì, 16 gennaio, 2023, ore 19, 21, presto che è tardissimo, è veramente tardissimo, tante cose da fare. Allora ragazzuoli e ragazzuole belle, vi mando un abbraccio, ognuno di noi ha detto la sua dopo la partita contro Lecce che ci ha portato solo un punto in classifica, vabbè ognuno di noi la vede a propria maniera, però una svolta comunque va data nel mercato, nel calcio mercato estivo al nostro Milan, con giocatori più funzionali al nostro Milan, questo è evidente, poi quello che il mister riuscirà a fare sarà ben accetto, quello che non riuscirà a fare ci affideremo agli astri, per cui vedremo come la finirà, anche perché è vero che il campionato è lungo ancora ed è presto dare una sentenza, ma non è stata data una sentenza da parte mia, è stata data una riflessione. Allora ci avviamo verso la Supercoppa di mercoledì, questa coppa importante di mercoledì che porta dei soldini, 8 milioni di euro più qualche bonus, e viene giocata in Arabia Saudita a mio modo di vedere in maniera non proprio rispettosa di noi italiani, perché non è giusto che una Supercoppa secondo me venga giocata in Arabia Saudita, ma il mercato, cioè i soldoni, dice questo, vuoi prendere soldi pesanti te ne devi andare da chi ce li ha, e ti devi beccare tutti questi soldi per questa Supercoppa. Vi voglio ricordare che la partita è alle ore 20 di questo mercoledì sera, alle ore 20 questi dovevano fare questa partita, alle ore 20, alle ore 20, già il fatto che si giochi in Arabia devono farla anche alle ore 20, lasciamo perdere, tutte le volte se no sarei solo polemico e basta, guardiamo avanti, la bella notizia di oggi è che praticamente Simone Inzaghi è incavolato nero, perché? Perché non è riuscito a prendere l'hotel che lui aveva con la Lazio quando batte la Juventus in Supercoppa, praticamente nel 2019, e praticamente non è riuscito a avere l'hotel, perché l'hotel l'ha preso in Mila, lui è venuto a contentare di un altro hotel e Filippo Inzaghi è completamente nervoso, e vai, e vai, e vai. Va bene ragazzi dai, le notizie sono anche queste, Rebic è disponibile per la Supercoppa, e c'è il balottaggio tra Kier e Calullo, vedendo il momento di confusione di Calullo è meglio che giochi Kier, non so se lo avete letto, ma sicuramente qualcuno di voi lo sa, ve lo dico io, Butman, Sven Butman è stato eletto difensore della Premier League fino ad ora, dell'inizio di campionato in Premier League fino ad ora, di questi mesi di girone di andata della Premier League. Bene, non lo dico in modo polemico, lo dico come battuta, noi ci siamo concentrati su De Keteler per non prendere, e non abbiamo preso Butman, a quanto pare abbiamo lasciato andare via un difensore galattico per prendere appunto credere in De Keteler, che tutti gli Astri ce la mandino buona, e visto che Maldini ha confermato ad Adani, ad Lele Adani, che praticamente De Keteler è fortissimo, un bravissimo ragazzo, ha grossi valori, speriamo in bene, nel senso non è che adesso anche qui stiamo buttando una sentenza, però è un dato di fatto, io pensavo che Butman volesse solo i soldi e i tempi, e a quanto pare si è dimostrato un grande difensore in Premier League, il migliore di tutta la Premier League. E questo è quanto ragazzi, non è che si può sempre azzeccare e fare le cose giuste, questa è la verità. E poi ragazzi, lo sapete, anche chiudendo il discorso Supercoppa di mercoledì sera, a proposito, noi ci vediamo dopo la partita di mercoledì sera di Supercoppa, alla fine della partita farò, registrerò il video e poi vi manderò la mia video reaction, vi voglio ricordare anche che noi dopo la Supercoppa, di martedì 24 gennaio, dobbiamo giocare contro la Lazio di martedì, di martedì, vabbè dai, anche qui, vabbè comunque abbiamo un po' più di tempo di respirare, visto che gli interisti giocano nel lunedì, dopo la Supercoppa, e anche qui voglio dirvi che l'arbitro, lo sapete già, per la finale Supercoppa è l'arbitro Fabio Maresca, vabbè dai, stendiamo tutto un velo gigantesco su questa cosa qua, e c'è una notizia che riguarda invece il nostro Milan come calciomercato, sembra che stiamo stringendo veramente per questo giovanissimo portiere, 2005 talento incredibile del campionato francese, della Ligue 1, del Saint-Étienne, questo Noa Ravier, sembra che ragazzi il Milan stia seriamente, stringendo, proprio per non arrivare all'ultimo, doverlo prendere e farselo fregare dagli altri, perché lo ripeto per l'ennesima volta, gli sbagli che sono stati fatti l'estate scorsa, sono stati sbagli di valutazione del calciomercato e soprattutto di obiettivi su cui noi eravamo da tempo, uno di questi secondo me è anche Renato Sanchez, perché arrivati ad ora ha ragione qualcuno di voi, ha ragione, no, più di qualcuno di voi che mi scrive, che se non è stato rimpiazzato adeguatamente, Pioli ha le sue responsabilità fino a un certo punto, è vero, avete ragione, io lo so che avete ragione, non sono mica nato ieri, so che Cassi doveva essere rimpiazzato, tutto quello che avete scritto lo so, ma è anche vero che anche se sei in una situazione di necessità, ti devi inventare qualcosa di nuovo dal cilindro, un cambio modulo, un approccio diverso alle partite, una mentalità differente, un carisma differente che l'allenatore deve dare alla squadra, è innegabile che Pioli abbia le sue responsabilità, se qualcuno di voi vuole camuffare le responsabilità di Pioli col fatto che non è arrivato il sostituto di Cassi, col fatto che non è arrivata la destra che avevamo bisogno, col fatto che non è arrivato il giovane attaccante, insomma avete capito, in Serie A ce la si può fare, se si ha veramente una inventiva superiore quando vedi che le cose non vanno, in Champions League non ce la puoi fare, magari lì anche lì ci vuole la fortuna, però la mano dell'allenatore è importante, è inutile che voi mi state a scrivere che mancano questi giocatori, non può fare nulla, no, è un 50-50, è in parte vero quello che dite voi e lo so benissimo, è in parte vero il fatto che comunque Pioli abbia le sue responsabilità, a proposito sembra che Cassi adesso vada all'Inter perché c'è lo scambio Brozovic, Cassi con il Barcellona, ma che sta roba qua, ma Cassi anche lui voleva andare al Barcellona per prendere soldoni e poi non ha dimostrato la mazza, la verità è questa che vi sto per dire, una squadra deve essere funzionale al gioco di Cassi, punto, se non è funzionale al gioco di Cassi quello se ne sta in panchina, chiuso a capo. Insomma questo è quanto ragazzi, per cui insomma godiamoci questa Supercoppa, lo ripeto noi ci vediamo domani, non ci vediamo perché sono stra impegnato, poi è inutile che faccio un video domani prima di una partita del genere, ci vediamo dopo la finale di Supercoppa, anche qui speriamo che vada tutto bene, che la nostra squadra ce la faccia, anche perché se fosse vero che i nostri si sono distratti, hanno perso punti per strada adesso in campionato proprio per questa finale, sarebbe l'occasione di dimostrare che la squadra ha un certo tipo di carattere e mentalità, si ha perso la mentalità, a proposito oggi Arrigo Sacchi ci è andato giù duro, su De Keteler, su Lukaku, su Leao, su Leao e Lukaku, no Leao si è Lukaku, Leao sul discorso rinnovo, che non deve pensare all'avidità dei soldi, su De Keteler che è pauroso, però Sacchi ha anche precisato, non sto lanciando una sentenza definitiva, ma è pauroso nel giocare, ha paura, teme qualcosa, insomma vedremo come andranno le cose, inutile adesso qui, lo ripeto già per l'ennesima volta, stare qui a scervellarsi per nulla, io vi mando un abbraccio, forza Mina sempre e comunque ovunque, lo ripeto, noi ci vediamo mercoledì dopo la partita, ragazzi, ma certo sarà sempre uno spettacolo, ma perché volete che non sia uno spettacolo, già solo per il fatto che io vedo il mio Mina sono felice, punto a capo, ciao!